un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio al microfono e da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara a Penne, 1 milione e 800 mila euro per la marineria abruzzese, l'ho annunciato ieri a Pescara l'assessore regionale alla pesca Dino Pepe che ha illustrato anche le finalità dei contributi, il fondo europeo ha detto per la pesca destinato per il periodo 2014-2020 18 milioni di euro, cioè 4 milioni in più rispetto alla contribuzione 2007-2013. Abbiamo già pubblicato in passato, ha detto Pepe, tre bandi con il primo relativo ai gruppi di relazione costiera per 3 milioni di euro, il bando sulla trasformazione del pescato ed ora è in corso la pubblicazione di quello che riguarda i quattro porti abruzzesi di Pescara, Ortona, Vasto e Giulianova in provincia di Teramo. Parliamo di 1 milione e 400 mila euro che potranno essere integrati con altri 400 mila euro destinati al miglioramento delle infrastrutture, dei servizi, dell'illuminazione, degli scali portuali e per le imprese di pesca che operano al loro interno. Pericoloso il modo di operare seguito dalla ASL di Pescara nel confronto con il sindacato FIALS perché il confronto con una sola sigla sindacale, peraltro non confederale, su questioni di carattere così complesso può portare ad assumere decisioni parziali che salvaguardando i soli aspetti proposti rischia di provocare un effetto boomerang per cittadini e lavoratori di Penne e provincia che si ritrovano con ulteriori tagli alla qualità e alla quantità dei servizi offerti. Lo denuncia il segretario provinciale della CGL Funzione Pubblica Stefano Di Domizio. L'azienda sanitaria infatti ha adottato una disposizione di servizio per l'ospedale San Massimo di Penne che comporta importanti ripercussioni sull'organizzazione dell'ospedale e sui servizi offerti ai cittadini. In particolare, spiega la CGL, per ridurre il periodo di accorpamento dei reparti di medicina, cardiologia e geriatria, si è disposto il trasferimento nel mese di giugno delle attività del dei hospital medico e cardiologico all'interno del reparto di medicina, con la conseguenza di limitarne fortemente lo svolgimento a causa di spazi inadeguati e insufficienti ad ospitare pazienti e attrezzature. Dopo i distaccamenti della Polizia Stradale di Ortone e di Vasto, anche la sezione di Chieti della Polizia Postale si appresta ad andare via. È un'altra brutta notizia per Chieti e la sua provincia, che appunto dovrà subire questa riduzione. Ad annunciarlo il sindacato di Polizia tramite il segretario provinciale Marco Melena, che appunto commenta in questi termini la notizia, si dice preoccupato per l'ennesimo taglio imposto dal Ministero dell'Interno nell'ambito del piano di riorganizzazione delle risorse e di razionalizzazione degli organici delle forze di Polizia. Il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale a Chieti, Marco Di Paolo, fa sapere che sull'argomento presenterà un ordine del giorno. E continua il cammino per la realizzazione della casa dello studente negli spazi dell'ex Ferrotel di Pescara. Dopo l'approvazione da parte della Commissione Gestione del Territorio, ieri la proposta è passata al vaglio del Consiglio Comunale, che ha approvato la variazione di bilancio necessaria. L'ex albergo dei Ferrovieri dunque diventerà casa dello studente in virtù dell'accordo di programma sottoscritto tra Comune di Pescara, Regione Abruzzo e ADSU, cioè Azienda per il Diritto allo Studio Universitario di Chieti e Pescara, cioè i soggetti che hanno aderito al progetto delle residenze universitarie. L'approvazione del progetto farà risorgere l'ex albergo dei Ferrovieri in grave stato di abbandono, tanto da essere stato scelto per ospitare la rassegna d'arte fuori uso curata da Cesare Manzo. Il restauro e la riqualificazione dell'ex Ferrotel costeranno 5 milioni e mezzo di euro, finanziamento ministeriale. Il Comune di Pescara, dopo il sì arrivato ieri dall'Assemblea, dovrà utilizzare 70 mila euro di finanziamenti regionali per il pagamento del progetto. Si apre la stagione balneare 2017 e anche quest'anno la Guardia Costiera si prepara a garantire il sicuro svolgimento delle attività marittime. Tra le novità il primo corso di istruttore di nuoto che si è concluso qualche giorno fa, rivolto a 10 militari della Guardia Costiera in servizio negli uffici dipendenti della Direzione Marittima di Pescara. Il corso della durata complessiva di due mesi è stato tenuto dagli istruttori della Società Nazionale di Salvamento di Pesca ed ha avuto come obiettivo quello di fornire ulteriori nozioni di tecniche di insegnamento ai militari in servizio sia a terra che a bordo dei mezzi nautici già di norma abilitato al solo salvamento. E' stata rintracciata con il fidanzatino la ragazza scomparsa a Pescara la scorsa settimana. A individuare la coppia è stata la polizia in via e-mail a Pescara ieri pomeriggio. La ragazza di 14 anni, Elison D.A., era andata via di casa da mercoledì scorso e i genitori avevano denunciato la scomparsa alla polizia e alla trasmissione televisiva. Chi l'ha visto si è poi appreso di un secondo momento che era andato via di casa anche il ragazzo. I due nei mesi scorsi erano già scomparsi di casa insieme per alcune ore senza avvisare le famiglie. A cattonaggio, bivacchi e degrado, emergenza in centro e l'allarme lanciato dalla Confcommercio Pescara che alla vigilia dell'estate parla di una situazione inaccettabile e di una vetrina vergognosa per i bagnanti e i turisti che raggiungeranno Pescara. Problemi dalla stazione fino a Corso Umberto e ormai una situazione fuori controllo che offre un'immagine indecorosa della nostra città in considerazione che il percorso in questione rappresenta il biglietto da visita che Pescara propone alla nostra clientela e ai nostri turisti. Blitz interforze nel cosiddetto ghetto di Via Ariosto a Monte Silvano. 400 agenti impegnati dall'alba a sgomberare stranieri in prevalenza africani che affollano i condomini dopo la catena di illegalità degli ultimi giorni, in particolare numerosi gli episodi di spaccio anche a minorenni. Oggi nel parco di Villa De Risis a Pescara tra Via Leopardi e Via Puccini dalle 9.30 si terrà la prima festa delle scuole in bici, un incontro di fine anno a cui parteciperanno tutte le scuole che hanno svolto con riferimento agli ultimi due anni scolastici un progetto inerente alla mobilità ciclistica e più in generale la mobilità sostenibile. I progetti riguardano diversi ambiti di età, dai viaggi di studio in bicicletta ai progetti di ricerca sulle piste ciclabili, dagli eventi in bici destinati agli studenti alle indagini e ricerche sul territorio. Le scuole che hanno aderito alla giornata sono più di 10, calcolando interi circoli scolastici che raggruppano anche scuole primarie ed infanzia. Oggi è mercoledì 31 maggio e la Chiesa celebra la festa della visitazione della Beata Vergine Maria. La direzione, la redazione, la regia e tutti i collaboratori di Radio Speranza augurano buon anniversario di ordinazione sacerdotale a Don Mauro Pallini e buon compleanno a padre Thomas Tomi Plato Tam e Don Valentino Iezzi. Siamo alle previsioni del tempo. Oggi su Pescara e provincia si prevedono sulla costa cielo poco nuvoloso fino a metà mattina, sereno dalla tarda mattinata a tutto il pomeriggio e nuvoloso in serata con temperature da 22 a 27 gradi e 20 deboli. Nelle zone interne cielo sereno fino alle ore centrali, poco nuvoloso nel primo pomeriggio, molto nuvoloso nel resto del pomeriggio e nuvoloso in serata con temperature da 23 a 28 gradi e 20 deboli. Il mare è previsto da calmo a quasi calmo. E con questa notizia noi ci salutiamo da Massimiliano Spiriticchio in studio, Natascia in cabina di regia e da tutti noi di Radio Speranza in blu. Grazie e buona giornata a tutti. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie a cura della redazione giornalistica. Grazie a tutti.